Questa è una carucola mobile, potenza uguale a metà della resistenza. Carucola mobile ancora tipo paranco, sempre potenza uguale a metà della resistenza. Insieme di carucole, paranco complesso. Paranco con potenza uguale a un sesto della resistenza. Carucola semplice, potenza uguale a resistenza. Potenza uguale a un sedicesimo della resistenza. Carucola mobile con pesi diversi applicati, dinamometro che li segnala. Spostiamo il peso, l'indice del peso. Ecco, vediamo cosa dicevo. Sposta il peso, cambia. Osserviamo ancora lo spostamento dell'indice del dinamometro. L'altro. Il peso, sì? L'ho già fatto. Sì, lo stesso uno degli altri. Tanto poi cambiamo tutto. Ecco, sì, di nuovo a toccare.